Pride è una manifestazione festosa, allegra, nella quale si cerca di parlare, di rivendicare i propri diritti in termini di sessualità, in termini di identità. Una volta si parlava di gay pride, adesso la parola gay è scomparsa perché è una parola come tanti altri, perché siamo tutti quanti come tanti altri, siamo unici nella nostra identità e siamo diversi nella nostra personalità e anche nella nostra sessualità. Quindi il Pride per me è un evento bello, allegro, sempre nel rispetto delle persone ovviamente, di tutte quante le persone, di tutte quante le identità e quindi aspetto di partecipare anche io a un Pride. Mi ricordo tantissimo quando ci andavo a Madrid erano veramente dei momenti belli, allegri, gioiosi di vita.